A lui uguale, no no a lui mi passa proprio davanti, davanti all'avanti Grazie 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 Abbassiamo il 50-500. Non c'è la mamma buca. andiamo fra guarda 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 puttalo fuori puttalo fuori andiamo aspetta 29 scusami ma sono un pezzo andiamo senza pele resta resta come è eccola lì guarda 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 Che ci fai qua? C'è una carta dei titolari. Che ci fai qua? 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 Che 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 fai? Che fai qua? 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 Bravo? Bravo? Che fai qua? Bravo? Che fai qua? Che fai qua? Vai? Che fai qua? Vai? Che fai qua? 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 ha detto? che fai qua? non mi pare? che fai qua? 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 che fai? che fai? che fai? che fai? che fai? che fai qua? 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 fai qua? che fai qua? 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 fai? fai qua? 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 fai? fai qua? 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 fai qua?